immaginiamo se xx tentation non avesse fatto gli ultimi due dischi immaginiamo che fosse rimasto diciamo fosse morto prima di celebrarsi in quel modo come un grande poeta maledetto moderno come uno degli autori più sensibili di quell'ondata di emo rapper chiamiamoli così che poi non è neanche corretto di sun cloud rapper mettiamola così che forse magari è meglio e se invece fosse arrivato è più solo con certi testi quali questo xx xanax no insomma così si pronuncia così scusate le mie pronunce ecco immaginate che lui fosse rimasto con spara con le pistole proprio come l'eroina nel profondo della figa come un corpo sepolto cagna sott'acqua come lo chiamo come la chiamo ariel voglio scopare sulla tua bocca sulla tua figlia addirittura sulla tua casa cioè immaginate se lui fosse quello di look at me e basta secondo me non non sarebbe poi così meritevole del rispetto che ha acquisito secondo me xx tentation ha fatto benissimo a fare due dischi in cui si è aperto davvero ed è quella la cosa che è veramente interessante sono quelli gli aspetti che lo hanno celebrato e lo hanno portato dove oggi in un olimpo perché per me personalmente uno veramente dei migliori dell'era moderna ha fatto dei dischi bellissimi delle canzoni bellissime quello che voglio indurre a riflettere diciamo il discorso che voglio fare tutta sta tarantena poi voglio essere breve non voglio andare alla lunga è che molti artisti inizialmente hanno bisogno di provocare e quindi di conseguenza fanno delle canzoni dei dischi provocatori violenti che poi comunque arrivano per lo stile eccetera eccetera ma a me questa roba qua questa canzone di xx tentation a me non mica piace a me non piace a me non piacciono molte cose che ha fatto lui ciò che mi piace di lui magari sono brani come save me ad esempio per quelle roba belle quelle arte questa roba qui per me non è arte questa roba qui è provocazione sterile pura e delirio totale che in quel momento però funzionava ed è stato necessario per farlo arrivare perché se tu da zero fai depression and obsession nessuno ti caga e allora tutto sto discorso per dire possiamo iniziare a supportare gli emergenti quando fanno della roba meritevole o dobbiamo sempre comunque soltanto dare voce ai loro deliri e poi farli sfogare cioè mi ha un po' rotto il cazzo questa dinamica del prima devo fare la provocazione totale devo fare il delirio devo fare il macello e poi dopo posso fare il disco serio ma può essere che invece non posso fare prima il disco serio e poi eventualmente faccio un macello questo è il dubbio amletico che mi viene quando penso a questo brano e alla carriera di xx tentation tentation come cazzo si dice prima dopo durante questo mi viene in mente il pensiero e la riflessione del giorno diciamo uno dei più grandi artisti che abbiamo avuto nell'era moderna lo dico perché lo penso perché io adoro questo artista ma che fortunatamente non lo ricordiamo contesti come appunto questo qui che è veramente vergognoso a tratti proprio ho messo mattoni su una cagna grande cioè quando poi ci ha aperto il suo cuore abbiamo visto la sua qualità